Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignol. In A1 tra Firenze Sud e Firenze Scandicci riduzione di carreggiata per lavori in direzione Bologna. In A12 l'area di servizio Magra e Versilia sono chiuse in entrambe le direzioni. L'area Castagnolo è chiusa in direzione Genova. Sull'accordo autostradale Siena-Firenze per lavori in corso, rallentamenti in entrambe le direzioni Tabadesse e Siena Nord. Restringimento di carreggiata in corrispondenza del viadotto Filinelle nel comune di Barberino-Tavarnelle. Per un guasto gli impianti di circolazione tra Tombolo e Calambrone, i treni percorrenti la linea Pisa-Centrale-Grosseto e Livorno-Milano-Piazza Carivaldi potranno subire ritardi o variazioni. A Firenze strada chiusa in via delle Conce per scavo urgente. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! A Firenze e Comune di Firenze